E' stato assegnato ad Ornella Figliozzi, 26enne di Messina, il quindicesimo premio Totolongo, indetto dal Lions Club di Capodorlando in collaborazione con la famiglia Longo e il comune Paladino. Il premio, come ogni anno, viene consegnato nella cerimonia che si svolge al Ristorante Bontempo in occasione del charter del Lions Club Paladino, giunto al 39esimo anniversario della sua fondazione. Totolongo è stato presidente di questo club esattamente 20 anni fa, impegnatissimo nel politico, ricorderanno tutti che è stato sindaco di Capodorlando, impegnatissimo nel sociale, è un uomo solare, me lo ricordo, molto allegro, sempre positivo e forse questo è il motivo principale per cui tutti lo ricordano con affetto. Il premio, rivolto ai giovani che eccellono nella carriera universitaria, è andato alla dottoressa Figliozzi per il suo eccellente corso di studi culminato nel laurea magistrale in giurisprudenza con tesi sul recesso dall'Unione Europea. Attualmente sto svolgendo la pratica forense a Roma in uno studio legale importante, allo scopo naturalmente di prendere poi il titolo d'avvocato, però non escludo ovviamente altre strade, considerando anche il titolo della tesi comunque in ambito europeo, mi piacerebbe eventualmente anche una carriera di questo genere. Abbiamo scelto tra le tante lettere arrivate questa ragazza che veramente si è lavorata con il massimo dei voti, 110 e lote, all'interno dei 5 anni.